Nelle lezioni precedenti abbiamo definito inizialmente la cinematica e la statica del corpo rigido e successivamente abbiamo particolarizzato il corpo rigido a travi, cioè corpi rigidi monodimensionali. Da questa lezione cominciamo invece a analizzare sistemi di corpi rigidi, quindi sistemi di travi. L'argomento della lezione odierna è cinematica e statica dei sistemi rigidi di travi. Definiremo quindi inizialmente la cinematica e la statica dei vincoli interni, definiremo i centri di rotazione relativa, a differenza del caso dei vincoli esterni in cui definivamo i centri di rotazione assoluta. Successivamente passeremo al calcolo delle reazioni vincolari per sistemi di travi, quindi da strutture costituite da più di un corpo rigido, introducendo delle equazioni dette ausiliarie che semplificheranno in maniera sistematica la determinazione di queste reazioni vincolari. Cominciamo a osservare e quindi a definire i vincoli piani interni, quindi riferiamo la nostra analisi in questo momento sempre a sistemi bidimensionali, quindi nel piano. Vediamo un po' un parallelismo fra vincoli interni e vincoli esterni, visti nelle lezioni precedenti. I vincoli esterni erano dei vincoli che legavano il corpo rigido piano a un sistema di riferimento fisso. I vincoli interni sono invece dei vincoli che legano i corpi rigidi piani fra di loro. I vincoli esterni imponevano particolari condizioni ai movimenti elementari dei punti vincolati, viceversa i vincoli interni impongono condizioni ai movimenti relativi di punti appartenenti a corpi diversi. Per quanto riguarda invece i centri di rotazione, i vincoli esterni definivano i centri di rotazione assoluta, i vincoli interni invece definiscono quelli che si chiameranno centri di rotazione relativa, cioè punti rispetto al quale un corpo si muove di pura rotazione rispetto a un altro. Così come per i vincoli esterni, anche i vincoli interni hanno una gerarchia secondo dei gradi di libertà che vanno a eliminare. In particolar modo avremo vincoli semplici, sono quelli che eliminano un grado di libertà relativo ai punti vincolati, introducendo un'equazione di vincolo. Anche in questo caso, come visto nel caso dei vincoli esterni, vi è una perfetta corrispondenza fra quella che è la definizione cinematica e quella che è la definizione statica, ovvero sia a ogni movimento impedito viene esercitata dal vincolo una forza generalizzata nella direzione del movimento impedito. I vincoli doppi sono invece vincoli che eliminano due gradi di libertà relativi ai punti vincolati, introducendo due equazioni di vincolo, mentre i vincoli tripli eliminano tre gradi di libertà ai punti vincolati, introducendo quindi tre equazioni di vincolo. Per quanto riguarda i centri di dotazione relativa, i vincoli semplici, come nel caso di vincoli esterni, danno solo un'informazione su dove possa cadere il centro di dotazione relativa, nella fattispecie definiscono una retta in cui può trovarsi questo centro di dotazione relativa. I vincoli doppi invece definiscono univocamente il centro di dotazione relativa, imponendo esattamente il punto, mentre i vincoli tripli non permettono spostamenti relativi e quindi non esisterà in questo caso il centro di dotazione relativa. Passiamo alla definizione cinematica e statica dei vincoli interni. Cominciamo da un punto di vista gerarchico, da quelli più semplici, quindi dei vincoli che eliminano solo un grado di libertà relativo. Consideriamo questa volta, a differenza del caso precedente, due travi. La prima, quella di sinistra, sia A il punto che viene vincolato al punto B della seconda trave, quella di destra. In questo caso abbiamo un pendolo o biella interna che elimina un grado di libertà, in questo caso solo la traslazione relativa, introducendo un'equazione di vincolo. Questo vincolo impedisce la discontinuità di spostamento nella direzione dell'asse del pendolino, quindi se indichiamo con N il versore che indica la direzione dell'asse del pendolino e con P una direzione ortogonale, quello che sarà impedito sarà appunto lo spostamento relativo fra A e B lungo N. Quella indicata in figura sono i possibili cinematismi che restano, vedete è possibile la traslazione in direzione P e la rotazione di uno rispetto all'altro. Per quanto riguarda la definizione cinematica, questa volta a differenza del caso di vincoli esterni, quello che dobbiamo considerare la differenza di spostamento fra il punto A e il punto B, quindi avremo d eta A meno d eta B proiettato lungo N, questa differenza di spostamento dovrà essere uguale a 0, come appunto abbiamo indicato nella slide precedente, viceversa la variazione di spostamento in direzione P sarà diversa da 0, cioè sarà consentita, così come sarà consentita la rotazione relativa di B rispetto ad A. Per quanto riguarda invece la duale definizione statica, vediamo che la reazione generica R con P, se la proiettiamo in direzione N avrà componente diversa da 0, mentre sarà uguale a 0 la componente in direzione P e sarà nullo il momento sia in A che in B. Questo significa che la generica reazione interna passa per il vincolo stesso a direzione N e quindi componente nulla rispetto a P. Quello che va osservato in questo caso è che chiaramente essendo vincoli interni i due tratti reagiranno con delle forze uguali e opposte, ovvero sia questa che indichiamo a sinistra è l'azione che il tratto di sinistra, quindi il tratto che è vincolato in A esplica su quella di destra vincolata in B e questa è quella uguale opposta, quindi il tratto di destra esplica sul tratto di sinistra. Per quanto riguarda il centro di rotazione relativa, questo dovrà appartenere alla retta N, quindi potrà essere un qualunque punto di questa retta. Bisogna considerare inoltre, a differenza dei vincoli esterni che questi vincoli interni possono essere in maniera complementare visti come invece degli svincolamenti, in questo caso vengono visti come degli svincolamenti di grado 3-g, che significa questo? Che se invece di avere la presenza di un vincolo, i due tratti fossero stati un tutt'uno, naturalmente non avrebbero avuto gradi di libertà relativi, l'introduzione del vincolo porta quindi a uno svincolamento, quindi alla possibilità di avere due gradi di libertà in più ed ecco che un vincolo semplice può essere visto come uno svincolamento doppio. Le azioni mutue, come invece detto, sono quelle che si scambiano fra di loro i tratti. Passiamo adesso a definire il secondo vincolo semplice, quello che elimina la rotazione relativa fra i due tratti di trave adesso applicati. Viene chiamato doppio bipendolo, detto braccio del tecnigrafo, è un vincolo non molto utilizzato da un punto di vista di pratiche applicazioni. Questo vincolo elimina un grado di libertà introducendo un'equazione di vincolo e non esiste rotazione relativa fra le sezioni A e B dei due tratti e di trave a cui esso è applicato. In figura è possibile vedere il tipo di movimentazione che può subire questo vincolo. Vedete, è possibile lo spostamento in direzione N in direzione P, ma quello che non è consentito è quindi la rotazione relativa e quindi i tratti restano paralleli a fa di loro. In questo caso la movimentazione è tale per cui teniamo bloccato una, quindi il movimento è soltanto relativo fra quello di destra e quello di sinistra. Passiamo alla definizione cinematica del vincolo. Abbiamo le tre relazioni, andiamo a vedere la differenza di spostamento fra A e B, quindi d eta A meno d eta B. Se facciamo questa, lo proiettiamo in direzione N, questo sarà diverso da 0, così come sarà diverso da 0 questa differenza di spostamento in direzione P, ovvero sia è possibile avere variazioni di spostamento sia orizzontali che verticali, quindi traslazioni relative. Quello che non è assolutamente possibile è la rotazione relativa, quindi l'unica vera equazione di vincolo è questa terza. Passiamo alla definizione statica duale della precedente, quindi avremo che la generica reazione R proiettata lungo N sarà uguale a 0, quindi non potrà avere componente lungo N, non potrà avere componente lungo P, quindi vuol dire che la reazione mutua è nulla, mentre quello diverso da 0 è il momento MA uguale a MB, perché sono chiaramente uguali opposti e quindi questo vincolo reagisce con una coppia, non permettendo appunto la rotazione. Per quanto riguarda il centro di rotazione relativa, questo se esiste, si trova lungo la retta ed è un punto qualunque della retta impropria. Passiamo adesso a definire vincoli doppi, anche in questo caso avremo dei vincoli che non permetteranno o le due traslazioni o una traslazione o una rotazione, cominciamo dalla scerniera interna che è un vincolo che elimina tutte le traslazioni relative, quindi scegliamo una coppia di assi NP passanti per la scerniera stessa, questo vincolo elimina appunto tutte le traslazioni introducendo due equazioni di vincolo, quindi elimina ogni spostamento relativo dei punti che collega, mentre permette la rotazione relativa. Ecco riportato il tipo di cinematismo, da un punto di vista applicativo, qui è riportato un collegamento fra un pilastro e una trave, un pilastro tipo HE e una trave imbullonato, vedete che in questo caso abbiamo l'anima dell'elemento orizzontale che viene imbullonato all'ala della colonna, chiaramente questo dà un piccolo cinematismo dato dalla possibilità di allungamento da parte dei bulloni, qualora si voglia realizzare invece un vincolo che eviti questo fenomeno, chiaramente bisognerà avere degli opportuni accorgimenti come vi farò vedere nelle slide successive. Passiamo adesso a definire questo vincolo da un punto di vista cinematico. Quindi cominciamo da vedere le prime due, sono che la differenza di spostamenti relativi fra A e B, se la proiettiamo lungo N, questo sarà uguale a 0, così come sarà uguale a 0 la differenza di spostamento rispetto lungo P, quindi come diciamo prima non esistono spostamenti relativi. Quello che invece è consentito è la variazione di rotazione, quindi la differenza di rotazione fra A e B. Da un punto di vista cinematico, da un punto di vista statico, questo invece si rappresenta in questo modo, se prendiamo la generica reazione R, che indichiamo con R, che chiaramente sarà RA, quella che A trasmette a B e R con B, quella che B trasmette a A, che dovranno essere uguali opposte, la proiettiamo in direzione N, questa potrà essere diversa da 0, così come potrà essere diversa da 0 la proiezione di R in direzione P, quindi R è trasposto P diverso da 0. Quello che è sicuramente uguale a 0 è il momento sia rispetto al punto A che rispetto al punto B, che poi chiaramente coincidono, il che vuol dire che questa reazione della quale non conosciamo la direzione sappiamo però che passa per la cerniera stessa. Quindi a differenza del caso di vincoli semplici in cui sapevamo dove passava il vincolo e com'era diretto, questa volta non sappiamo com'è diretto, quindi abbiamo un ulteriore parametro in più che in questo caso si traduce nelle due componenti, per esempio nella componente orizzontale e verticale. Naturalmente ricordo sempre che la H con A sarà uguale ad H con B e la B con A sarà uguale e opposta alla B con B. Si dice la cerniera non reagisce a momento, questo è importantissimo perché quando faremo poi delle applicazioni e determineremo le sollecitazioni, quindi soprattutto i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, quando ci sarà una cerniera interna il momento, tranne i casi in cui ci sarà un momento esterno applicato, sarà sicuramente nullo. Dualmente si deve ricordare che la cerniera può essere vista come uno svincolamento semplice, ovvero sia esiste soltanto una possibilità di spostamento relativo fra le travi incerninate fra di loro. Per quanto riguarda invece il centro di rotazione relativa, se esiste questo coincide con la cerniera stessa, quindi essendo un vincolo doppio ci dà un'informazione esatta su dove si trova il centro di rotazione relativa. Il secondo vincolo doppio è il doppio pendolo, che viene indicato in questo modo, doppio pendolo interno, indichiamo con N l'asse parallelo ai pendolini, con P quello invece ortogonale. Questo vincolo elimina due gradi di libertà relativi, c'è la traslazione relativa in direzione N e la rotazione relativa, introducendo due equazioni di vincolo, quindi impedisce la rotazione relativa e lo spostamento relativo in direzione dei pendolini N. Allora, ecco il tipo di spostamento possibile, cioè si ha l'unico spostamento consentito e quindi lo spostamento in direzione P, quindi in direzione ortogonale all'asse dei pendolini. Passiamo a vederne adesso la definizione cinematica. La definizione cinematica è qui indicata, quindi abbiamo dEta con A meno dEta con B, cioè la differenza di spostamento proiettata in direzione N, cioè in direzione dell'asse dei pendolini, è uguale a 0, mentre è diversa da 0 la differenza di spostamenti in direzione P, quindi questa, se vogliamo, è quella consentita, così come invece viene annullata la rotazione relativa, ΔΦ. Analogamente ai casi precedenti, passiamo alla definizione statica, che chiaramente dipende da quella cinematica appena introdotta, quindi prendiamo la generica reazione interna R, la proiettiamo in direzione N, questa proiezione potrà essere diversa da 0, sarà sicuramente invece uguale a 0 quella in direzione P, quindi di R conosciamo la direzione che deve essere coincidente con l'asse dei pendolini. Sarà diverso da 0 anche il momento. Questo comporta i due parametri, se vogliamo, sarà il modulo, quindi l'intensità di R con B e la distanza rispetto al vincolo stesso, quindi a differenza del caso della cerniera, la reazione del doppio pendolo non passa per il vincolo stesso. Risulterà forse più utile quando faremo le applicazioni considerare come componenti la componente, in questo caso l'ho indicata H perché abbiamo messo un pendolino orizzontale, comunque la componente in direzione dell'asse dei pendolini è il momento, pari quindi a R per la distanza. In ogni caso, essendo un vincolo doppio avremo due parametri da considerare. Per quanto riguarda il centro di rotazione relativa, se un vincolo doppio lo definisce in maniera precisa, coincide col punto improprio in direzione N. l'ultimo vincolo da prendere in esame è l'incastro interno, che è un vincolo che elimina tutti e tre i gradi di libertà, introducendo tre equazioni di vincolo. In questo caso quindi non esistono spostamenti relativi fra i due tratti collegati. Da un punto di vista cinematico, quindi tutte e tre le relazioni saranno nulle, quindi sarà nulla la variazione di spostamento in direzione N, la variazione di spostamento in direzione P e la rotazione relativa. Per quanto riguarda invece la definizione statica, se sono tutte e tre nulle quelle cinematiche, dualmente saranno tutte e tre diverse da zero le componenti. Ed ecco che, come avevo detto nella lezione, quando abbiamo introdotto i vincoli esterni, quando cresce la gerarchia, quindi quando cresce il grado di vincolo, abbiamo sempre più informazioni da un punto di vista cinematico, ma sempre meno informazioni e sempre quindi più parametri da determinare da un punto di vista statico. Nella fattispecie del vincolo triplo, quindi nell'incastro triplo, saranno tre i parametri da determinare, in quanto dovremmo determinare la componente in direzione N, la componente in direzione P e il momento, che tradotto significa il modulo, quindi l'intensità della R, il braccio rispetto al vincolo stesso e l'inclinazione. Normalmente quello che faremo sarà quello di considerarle come componenti, una componente orizzontale, una componente verticale e un momento, tenendo presente che questi tre sono sempre tre componenti di un'unica reazione interna. Oltretutto il vincolo nel triplo è molto importante perché in qualche modo una trave può essere vista come un'infinità di vincoli tripli e queste che abbiamo appena introdotto, queste tre componenti, saranno poi le componenti delle caratteristiche della sollecitazione che andremo a considerare quando arriveremo a definire quindi quelli che saranno in momenti i tagli e gli sforzi normali. Quello che sarà ancora più importante è che queste tre saranno le componenti di un'unica reazione interna che sarà questa R con B che ho indicato qui in figura e che guarda caso sarà la cosiddetta risultante interna e che il cui inviluppo darà luogo alla cosiddetta curva delle pressioni. Nel momento in cui non c'è nessun cinematismo possibile, chiaramente non esisterà in nessun caso il centro di rotazione relativa. Da un punto di vista poi di realizzazione, vedete siamo nel caso analogo a quello visto per la scerniera, qui indicato un collegamento tra una trave e un pilastro, anche in questo caso la trave viene vincolata al pilastro sull'ala del pilastro, vedete però come cambia il collegamento in quanto non viene più soltanto imbullonata in corrispondenza dell'ala, quindi considerando e quindi tenendo conto dell'allungamento dei bulloni, ma viene flangiata sia superiormente che all'interno del pilastro stesso e quindi il momento in questo caso trasmesso dall'anima, dalla trave, viene passato al pilastro mediante una coppia di forze in corrispondenza delle due ali che vengono trasmesse alle due ali del pilastro, quindi cambia completamente lo schema, è uno schema molto più rigido. Vediamo un po' di casi particolari che potremmo ritrovare durante le applicazioni. Il primo caso particolare è quando abbiamo su uno stesso nodo la confluenza di quattro elementi, quindi abbiamo un incasto interno a cui confluiscono quattro travi, questo può essere visto come N-1 connessioni mutue, quindi immaginiamo una fissa e vediamo gli altri come funzionano. Abbiamo N, il numero dei elementi collegati, in questo caso abbiamo quattro travi, i gradi di libertà iniziali sono naturalmente 4 per 3, 12, dal momento che però abbiamo N-1, quindi 4-1 fa 3, 3 incastri interni, 3 per 3 fa 9, 12-9 fa 3, quindi abbiamo G che corrispondono ai gradi di libertà residui. Sono 3 perché dal momento che questo è un incasto interno la somma di queste quattro travi diventa un unico corpo rigido che quindi, essendo un corpo rigido nel piano, è caratterizzato da tre gradi di libertà residui. Per quanto riguarda invece i gradi di libertà che sono stati soppressi dalla presenza di questo vincolo saranno 3 N-1, quindi nella fattispecie saranno 3 N-1 fa 3, 3 per 3, 9, quindi questo vincolo viene visto come un vincolo che elimina 9 gradi di libertà in questo caso. In maniera analoga consideriamo il caso in cui queste quattro aste confluiscono sempre nello stesso nodo, ma questa volta all'interno del nodo ci sia una cerniera interna, abbiamo sempre N-1 connessioni mutue, quindi N-1 sarà uguale a 3, laddove N è il numero degli elementi collegati e in questo caso sono 4. I gradi di libertà residui saranno pari sempre a 4 per 3, che sono quelli originali, 12, meno questa volta 3 per 2, perché stiamo collegando mutuamente questi corpi mediante una cerniera che è un vincolo doppio, quindi 12-6 fa 6, quindi questo corpo ha 6 gradi residui, che saranno i 3 gradi di libertà dell'insieme delle 4 aste più le 3 sconnessioni relative, quindi perché 4 potrà ruotare rispetto a 1, 3 potrà ruotare rispetto a 1, 2 potrà ruotare rispetto a 1, quindi le 3 ruotazioni relative mutue. Da un punto di vista invece di computo dei vincoli eliminati, soppressi, questo varrà 2 per N-1, perché sono N-1 connessioni mutue, quindi nella fattispecie N-1 fa 3 per 2 fa 6, quindi questo vincolo elimina 6 gradi di libertà in questa configurazione. Un altro caso particolare che potrà realizzarsi, sia da un punto di vista pratico ma anche in applicazioni, è il caso di un vincolo esterno, in questo caso un carrello a cui confluiscono 3 travi. I gradi di libertà originari erano 3 travi per 3 gradi di libertà ciascuno, 9, questa volta abbiamo N-1 per 2 fa 4, connessioni mutue, e in più dobbiamo ancora aggiungere, a differenza del caso precedente, il meno 1, che è il grado di libertà che elimina il carrellino, quindi può essere visto come una cerniera interna che unisce 1, 2, 3 come nel caso visto prima, più la presenza del carrellino vincolo semplice. In definitiva si hanno 4 gradi di libertà residui, mentre sono stati soppressi 2N-1, quindi 2 per 2 fa 4, più 1 vincoli, quindi il computo totale di questi vincoli, quando andiamo a calcolare quanti vincoli introduciamo o quanti vincoli esistono in una struttura, in questa configurazione vale 5. In maniera del tutto analoga, se al posto del carrellino abbiamo una presenza di una cerniera, lasciando la stessa configurazione, qui dovremo soltanto aggiungere il 2 al posto dell'1 e quindi il 2 al posto dell'1 come gradi di libertà soppressi, quindi questa struttura vincolata con una cerniera avrà 3 gradi di libertà residui, mentre sono stati soppressi 6 gradi di libertà. Un altro esempio molto importante che capiterà anche nelle applicazioni è quello della maglia chiusa. La maglia chiusa può essere vista come una struttura costituita da 4 travi vincolate mutuamente fra di loro mediante questi 4 incastri. Se andiamo a fare in questo caso il calcolo dei gradi di libertà originari, quindi 4 tratti per 3, gradi di libertà di ogni singolo tratto visto come corpo rigido, sarà uguale a 12, poi abbiamo 4 vincoli interni, incastri, quindi 4 vincoli tripli, 4 per 3 fa anch'esso 12, 12 meno 12 uguale a 0. Parrebbe che questa struttura non abbia gradi di libertà residui, ma bisogna stare molto attenti perché questa struttura risulta essere una struttura che è 3 volte labile esternamente, infatti se volete è un unico corpo rigido che può, da corpo rigido non essendo vincolato esternamente, subire due spostamenti nel piano e una rotazione e di contro sarà quindi 3 volte iperstatica internamente. Infatti se rieffettuiamo il calcolo, come avevamo già visto nella lezione precedente, indichiamo con G il numero di gradi di libertà della struttura che è pari a 3 per il numero di travi. Abbiamo che V meno G uguale a 0, quindi un numero di vincoli uguale al numero di gradi di libertà è una condizione soltanto necessaria, ma non sufficiente a garantire l'isostaticità della nostra struttura, perché in generale questa relazione è uguale anche a L meno I, come nel caso precedente 3 meno 3, quindi 3 sarà il grado di labilità per questa struttura e 3 il grado di iperstaticità. Per essere certi che una struttura sia isostatica, deve essere quindi che V meno G uguale a 0, quindi dobbiamo avere un numero di vincoli uguale al numero di gradi di libertà della struttura, ma deve anche essere L uguale a 0. Escrivo L uguale a 0 perché la labilità è molto più facile da accertarsi rispetto all'iperstaticità, quindi qualora abbiamo un numero di vincoli che è uguale al numero di gradi di libertà della struttura, se possiamo anche dire che non esistono labilità, allora la struttura è isostatica, è ben vincolata. Vediamo quindi questo caso di trave, di maglia chiusa, come si può rendere isostatica, si può rendere isostatica o introducendo una sconnessione, quindi questa diventa se vogliamo un'unica trave che ha inizio, che ha origine qui e termine qui, quindi un'unica trave che ha una forma di pseudo quadrato, ma comunque un unico corpo rigido, oppure introducendo 3 cerniere, 3 cerniere viste come sconnessioni semplici, quindi ci serve in qualche modo introdurre 3 sconnessioni. Quando si introducono queste sconnessioni, quindi per rendere una struttura da iperstatica a isostatica, ed è quello che poi si dovrà fare quando ci sarà da risolvere le strutture iperstatiche, bisogna stare attenti a come si dispongono queste sconnessioni, perché se per esempio andiamo a disporre queste 3 cerniere allineate fra di loro, ecco che qui nasce un cinematismo, quindi la struttura torna a essere a vincoli maldisposti. Passiamo a determinare adesso delle reazioni vincolari per sistemi di travi, per fare questo introduciamo le equazioni ausiliarie, che sono delle equazioni che ci permetteranno di semplificare notevolmente il calcolo delle reazioni vincolari, infatti se consideriamo delle strutture composte da N tratti rigidi, abbiamo in generale G uguale a 3N equazioni di equilibrio in V uguale a 3N reazioni elementari incognite, quindi nel sistema che abbiamo visto la volta scorsa in cui avevamo la matrice statica di ordine G per V, il vettore delle reazioni vincolari incognite, che è il grado V, è il vettore delle forze esterne, si tratta di risolvere quindi un sistema consistente. Se per esempio la struttura è costituita da due tratti, come andiamo a vedere negli esempi fra breve, già dobbiamo risolvere 6 equazioni in 6 incognite, se i tratti diventano 3 saranno 9 equazioni in 9 incognite, quindi chiaramente diventa abbastanza complesso e complicato il calcolo manuale. Allora cosa faremo? Introdurremo questo che è il metodo delle equazioni ausiliarie che quindi ci consente di scrivere semplicemente 3 equazioni di equilibrio globale più S equazioni ausiliarie, laddove con S indichiamo il grado di svincolamento interno. Cioè che significa? Significa questo che se un sistema di travi ha S svincolamenti interni dovrà avere 3 più S equazioni, diciamo, in reazioni vincolari esterne. Considereremo quindi inizialmente il corpo come se fosse un unico corpo rigido, scrivendo soltanto le equazioni cardinali della statica per il corpo completo più queste S equazioni ausiliarie rispetto ai vincoli interni. Quindi avremo, ripeto, 3 più S equazioni di equilibrio in 3 più S reazioni esterne elementari incognite. Quindi le S equazioni ausiliarie saranno tali da non fare intervenire le reazioni interne. Passiamo adesso a dei calcoli. Cominciamo da un portale incernierato che poi viene chiamato in genere arco a tre cerniere. Ecco la nostra struttura, costituita quindi da due tratti, il tratto AB. Quindi abbiamo questa struttura che è vincolata in A esternamente con una cerniera, in C esternamente con un'altra cerniera e mutuamente i due tratti sono vincolati in B mediante una cerniera interna. Per essere certi che in questo momento la struttura sia vincoli ben disposti è sufficiente dire che le tre cerniere non devono essere allineate come nell'esempio che vi ho fatto vedere della maglia chiusa. Nella prossima lezione definiremo anche in questo caso un metodo grafico basato su dei teoremi delle catene cinematiche che ci permetteranno nel caso di sistemi di travi a essere certi se la struttura è a vincoli ben disposti o meno. Quindi ad accertarci che quell'L, il grado di labilità, sia uguale a zero. Il nostro portale sia alto L, quindi due montanti siano alti L, mentre sia globalmente lungo 2L. La forza che sollecita la nostra struttura sia posta sul tratto 2 nella mezzeria del corrente orizzontale, posta a L mezzi, quindi da C, è inclinata di alfa rispetto all'orizzontale. Per determinare le reazioni vincolari dobbiamo scrivere, ipotizzare quindi dei versi arbitrali, ipotizziamo per esempio che le reazioni di A siano HA orizzontale diretto verso destra, V con A verticale, V con C sia verticale, H con C verso sinistra e come vi accorgete, come vi dicevo prima, in questo caso abbiamo un solo svincolamento interno, quindi S è uguale a 1 e il numero di componenti delle reazioni vincolari da determinare sarà pari a 3 più S, quindi 3 più 1, saranno 4 reazioni esterne da determinare. Cominciamo a scrivere le tre equazioni cardinali della statica come unico corpo rigido, quindi consideriamo questo come se fosse un unico corpo rigido, dimenticandoci dello svincolamento in B. Allora cominciamo dall'equilibrio della traslazione orizzontale, la freccina verso destra indica che sono positivi le forze dirette verso destra, quindi avremo H con A positivo, meno F coseno di alfa che è la componente orizzontale della forza esterna applicata, meno H con C, entrambi questi termini sono negativi perché diretti verso sinistra, uguale a 0. La seconda è l'equazione di equilibrio della traslazione in direzione verticale, avremo V con A positivo perché è diretto verso l'alto, più V con C positivo perché è diretto verso l'alto, meno F sen alfa che è la componente verticale della forza esterna applicata, uguale a 0. Dalla terza equazione scegliamo A come polo per calcolarci il momento, avremo H con A e V con A passano per A e hanno braccio nullo, H con C passa per A e abbraccio nullo, le uniche tre saranno le due componenti, quella verticale e orizzontale della forza esterna più la V con C che darà quindi rispetto ad A, momento positivo perché è anti-orario. Quindi abbiamo meno F sen alfa per tre mezzi di L, dove tre mezzi è questo braccio, il braccio fra la componente verticale e A, più F cosen alfa per L, L che stavolta è il braccio della componente orizzontale, più V con C per 2L, il braccio fra C ed A, quindi la componente V con C uguale a 0. Quindi abbiamo in questo caso tre equazioni nelle quattro incognite HA, HC, V con A, V con C. Ci serve quindi, diciamo, dalla terza possiamo ricavare intanto il valore di V con C, semplifichiamo tutto per L e quindi ricaviamo che V con C sarà pari a tre quarti di F seno di alfa meno un mezzo F cosen alfa. Però ci resta ancora da determinare la terza equazione, quindi utilizziamo in questo caso come equazione ausiliaria per il tratto 1 l'equilibrio al momento rispetto a B. Dal momento che sappiamo che in B il momento deve essere nullo, guardiamo soltanto il tratto 1, facciamo l'equilibrio al momento intorno a B. Quindi avremo meno V con A per L, quindi meno V con A per L perché rispetto a B V con A tende a far ruotare in senso orario, quindi negativo per la nostra convenzione che invece dà positivi momenti anti-orari, più HA per L, perché in questo caso il braccio L e H con A far ruotare in senso anti-orario, è uguale a zero. Da questa relazione, semplificando per L, otteniamo che V con A è uguale ad H con A. Passiamo all'equilibrio, questo punto verticale, quindi torniamo un attimo indietro, qui determiniamo V con A in funzione di V con C che abbiamo determinato prima, quindi otteniamo che V con A è uguale a F mezzi coseno di alfa più F quarti seno di alfa e V con A dalla relazione vista prima sarà anche uguale ad H con A. Noto H con A possiamo determinare a questo punto H con C dalla prima delle tre equazioni cardinali della statica e quindi scrivere che, facendo tutti i calcoli, che H con C sarà pari a F quarti seno di alfa meno F mezzi coseno di alfa. Quindi in definitiva le quattro componenti ottenute sono queste indicate in figura, H con A sarà pari a F quarti seno di alfa più F mezzi coseno di alfa, V con A è uguale a F quarti seno di alfa più F mezzi coseno di alfa, sono effettivamente uguali, H con C è uguale a F quarti seno di alfa meno F mezzi coseno di alfa e V con C è uguale a tre quarti F seno di alfa meno F mezzi coseno di alfa. Particolarizziamo adesso la soluzione al variare di alfa. Quindi vediamo il caso in cui alfa sia uguale a pi greca mezzi, cioè la forza sia verticale, ecco che in questo caso avremo che H con A diventa uguale a F quarti, V con A è uguale a F quarti, H con C uguale a F quarti, V con C uguale a tre quarti di F. Se indichiamo in questo modo le componenti possiamo osservare quanto segue, che se componiamo la H con A e la V con A otteniamo la vera e propria reazione vincolare della cerniera esterna che è inclinata in questo modo, in questo caso essendo uguali alle componenti sarà inclinata a 45 gradi, la R con C invece ha quest'altra inclinazione componendo la H con C e la V con C. Dalla prima osserviamo quindi la pendenza della retta è uguale a 1 e la retta d'azione della cerniera in A passa per la cerniera in B, tenete presente che il tratto 1 è un tratto che non è soggetto a forze esterne e che quindi deve essere in equilibrio fra la reazione della cerniera in A e la reazione della cerniera in B, la cerniera interna, quindi essendo due sole forze che passano una per A e l'altra per B non possono che essere uguali opposte e quindi la retta d'azione di A deve passare per B e viceversa. Noto questa informazione, la terza, la reazione di C, quindi globalmente può essere vista come una forza esterna attiva, una forza reattiva R con A e la terza forza reattiva R con C, abbiamo quindi che il nostro corpo è soggetto a tre forze, se sono tre forze come vedremo poi fra l'altro nella lezione in cui scenderemo più nel dettaglio per quanto riguarda la parte grafica, tre forze per essere in equilibrio devono passare per lo stesso punto ed ecco che avendo determinato per R con A la direzione, laddove questa retta d'azione incontra la forza esterna, per quel punto dovrà passare anche la retta d'azione della terza, ecco qui. Questa sarà inclinata con un rapporto pari a tre su uno perché la componente verticale è tre volte maggiore rispetto a quella orizzontale, quindi tre forze passano per un punto, queste sono le reazioni interne, quindi avremo che la VB che agisce sul tratto di sinistra sarà uguale opposta alla V con A e di conseguenza anche le altre. nel caso in cui invece alfa sia uguale a zero, quindi la forza sia orizzontale, si particolarizza così il caso, le due componenti H e V con A diventano uguali a F mezzi, H C e V con C uguali a meno F mezzi e meno F mezzi, quindi si invertono i segni, quindi la R con A resta sempre la stessa, la R con C, vedete, inverte completamente il segno rispetto a quelle due inizialmente ipotizzate, entrambe hanno una pendenza a questo punto 1 a 1, passano tutte per B e guarda caso le due reazioni di A e di C si incontrano dove passa anche la terza forza esterna, quindi la forza esterna uguale a quelle interne, qui abbiamo sempre le stesse componenti interne. Passiamo come ultimo esempio a un portale analogo al precedente che questa volta però zoppo, c'è un tratto, un pilastro è più lungo dell'altro e soprattutto il vincolo interno non è più una cerniera ma è un doppio pendolo, in questo caso a scorrimento verticale. La struttura sia sollecitata da un carico distribuito Q sul corrente orizzontale del tratto 2, carico costante il cui risultante è pari a Q per L. Ipotizziamo come nel caso precedente le componenti delle reazioni in A e in C, introduciamo in questo caso, ma sono di poco utilizzo in questo momento, le reazioni interne e quindi scriviamo l'equazione ausiliaria del tratto 1. L'equazione ausiliaria del tratto 1, se andiamo a guardare il tratto 1, facciamo l'equilibrio verticale, generalmente si fa sempre l'equilibrio nella direzione permessa di spostamenti relativi, in questo caso l'unico spostamento relativo fra il tratto 1 e il tratto 2 è lo scorrimento verticale, cioè ortogonale all'asse dei pendolini. In questo caso abbiamo che è V con A uguale a 0 perché è l'unica forza verticale presente nel tratto. Con questa informazione possiamo riscrivere le equazioni globali e quindi se facciamo l'equilibrio della traslazione verticale, cominciamo a scrivere le equazioni con una certa logica, prima quella verticale determiniamo subito V con C perché abbiamo solo V con C e QL come forze verticali, quindi V con C uguale a Q per L positiva, direttamente verso l'alto così come ipotizzato. Facciamo l'equilibrio al momento rispetto ad A, vedete abbiamo V con C per 2L più H con C per L, che sono le componenti della reazione in C, poi abbiamo il carico Q per L per il braccio che è 3 mezzi di L uguale a 0, da questa ricaviamo che H con C è uguale a meno QL mezzi, quindi negativo e dobbiamo cambiare il verso. Dall'ultima equazione ricaviamo che H con A è uguale a meno QL mezzi. Passiamo adesso a costruire da un punto di vista grafico la nostra soluzione, la R con A abbiamo visto essere solo orizzontale, quindi questa è la retta d'azione di A, questa è la retta d'azione del carico, la retta d'azione del terzo vincolo dovrà passare per questo punto perché essendo 3 soli forze esterne, 2 reattive e 1 attiva, 3 forze presse in equilibrio devono passare per lo stesso punto, ecco che questa è la retta d'azione di C così come è determinata da un punto di vista analitico, questa è la R con C, quindi una volta che le 3 forze passano per lo stesso punto, queste 3 forze oltre a passare per lo stesso punto dovranno essere tali anche da chiudere il poligono delle forze, quindi se prendiamo la forza verticale esterna e tracciamo due rette parallele alle direzioni così determinate, possiamo determinarne anche i versi da un punto di vista grafico, questo però lo vedremo in una lezione ad hoc per quanto riguarda la determinazione grafica delle reazioni vincolari. Grazie a tutti. Grazie a tutti.